cari amici buongiorno questo è un video e vi faccio sentire le campane della chiesa del monte lussari c'è anche mia sorella ida che vi saluta buongiorno è un video quindi puoi dire puoi fare un saluto ai nostri amici di verona i nostri parenti alla anna a rino la maria le tue figlie puoi salutare in particolare ecco saluto rissime e mentre le campane sfumano facciamo vedere anche le montagne che ci sono qui attorno facciamo una panoramica una visione panoramica vieni vieni da vieni che ci indichi qualche cosa è la prima volta che è la prima volta è la prima volta che vieni da queste parti è no 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 non siamo mai non dire mai mai non dire mai mai ecco allora siamo saliti con la teleferica vedete che ci sono le gabine che stanno salendo rapidamente e quindi oggi è una giornata anche splendida siamo il 25 di luglio san giacomo quindi noi tra qualche momento adesso le campane hanno finito di suonare quindi ci prepariamo per la messa ecco da qui si vede veramente un panorama meraviglioso in questa giornata splendida c'è un bel sole ci sono delle persone che salgono a piedi qui sotto accompagniamole e così finisco di fare il giro panoramico per farvi vedere le meraviglie di queste montagne la madonna del monte lussari un caro saluto saluti anche tu ide ciao a tutti ciao